E' scattato il conto alla rovescia verso il tanto temuto picco del contagio. Sul calendario assegnato in rosso in Toscana c'è il 28 marzo. Se le curve del coronavirus rispetteranno ovviamente le previsioni dei modelli matematici, la regione si prepara ad una settimana di passione nella quale dovrà farsi trovare pronta. A maggior ragione se il culmine dovesse poi slittare in avanti, ciò vorrà dire che ci sarà bisogno di maggiori forze da schierare. Il presidente della giunta regionale Enrico Rossi ha annunciato la creazione di 300 posti di terapia intensiva ricavati da vecchi ospedali, verranno dotati definitivamente con i ventilatori e poi li vorremmo tenere così, ha detto, sarà l'ultimo atto che farò da presidente della Toscana. La rianimazione è la frontiera della tenuta del sistema che negli ultimi giorni è andata riempendosi fino al 60 per cento dei 400 posti a disposizione. Voglio precisare che la Toscana in questi anni non ha diminuito i posti letto in terapia intensiva ma li ha aumentati, ne avevamo 340, siamo a 440. A questi abbiamo previsto di aggiungerne 280. Lo stiamo facendo adesso nel momento in cui non abbiamo una grossa pressione e tutto questo lo facciamo per avere la possibilità di arrivare attrezzati nel momento in cui registreremo il picco dei casi. La strategia segnata è quella di moltiplicare i tamponi. Finora solo ai malati verranno adesso allargati alla cerchia di contatti di ogni singolo sintomatico. L'ASL Toscana Centro prevede di farne 2400 al giorno a partire da lunedì.